desidero che tu mi racconti la storia di questo figlio. Lui ha cominciato a raccontarmi e mano a mano che lui lo raccontava io ero sempre più preso da questa storia che cominciava ad affascinare e mi venivo già in questo ruolo, in questo personaggio era già sulle mie corde. Alla fine del racconto non ho potuto fargli che fargli complimenti e ho detto guarda la storia mi piace ma non so se voi siete due disperati o che so che ma io questo figlio desidero farlo e così nasce questo nostro rapporto chiaramente ci siamo anche in questi accordi sotto altri aspetti abbiamo raggiunto il compromesso giusto perché erano già venuti givenati quindi non volevo però ho avuto ragione perché comunque non mi sono arricchito finanziariamente ma mi sono arricchito di quello che avete visto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti